Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento meteo. Anche venerdì come la giornata di giovedì l'Italia sarà letteralmente spezzata in due perché mentre al centro nord il tempo sarà stabile e soleggiato il sud sarà interessato da un po' di maltempo. Infatti guardate le nuvole non mancheranno sulle regioni meridionali ma anche sulle due isole maggiori. Nuove nevicate imbiancheranno i rilievi della Puglia e l'Appennino centro meridionale anche a quote piuttosto basse mentre deboli piogge tenderanno a bagnare le coste del medio basso versante adriatico, il sud, il nord ovest della Sicilia e anche il sud della Sardegna. Tra l'altro il freddo fuori stagione si farà sentire di molto infatti guardate le temperature saranno decisamente fresche e andranno dai 9 ai 15 gradi. Intanto io vi ricordo come sempre che per avere maggiori dettagli in base alla località potete o consultare il nostro sito www.meteo.it oppure potete scaricare la nostra applicazione gratuita.